E bella boys, benvenuti su questo nuovissimo video. Oggi ragazzi vi porto un gameplay a dir poco spettacolare, dove io insieme a Ghost abbiamo fatto ben 30 uccisioni in duo ragazzi, quindi direi uno spettacolo anche perché oggi come oggi, boys con i nuovi update, le nuove mappe, è diventato davvero complicato fare così tante kill, perché le persone muoiono subito. In ogni caso ragazzi vi invito a lasciare tanti bei mi piace per questo video, sciovatemi un po' di supporto e vi ricordo inoltre ragazzi che in descrizione trovate il link ai miei social, Instagram, Twitter e Facebook e inoltre ragazzi trovate il link anche per le mie live streaming, perché sì ragazzi, io vado in live ogni giorno su un altro programma, non su YouTube, dalle 15 alle 18 e dalle 21 alle 2 di notte ragazzi, quindi passate anche da lì su quel sito, trovate il link qui sotto ragazzi, passate lì e niente, ci divertiremo con le live e godetevi il video, oh yeah boy, let's go! Ah tu proprio te la rischi così, quello c'è il pompa? L'R, dovendo appicconate! Sotto orienti, sott... Oh! Bloom! Bloom! Grazie Bloom! Minchia stava esplodendo. Grazie Bloom! E' il Bloom che per una volta mi fa felice. Tieni un medica, un medica. Non dirmi manco grazie. Prego. Eccoli, sono qui sotto. Mi hai usato un medica, ok? No no no, pompa. Eh io ho un tac. Pompe, venite a me. No. Ah ma siamo quelle di qua sotto, andiamo subito. Eh, no li trovo, ci sono più. Ci sono, ci sono. Sì, ma delle fome, oh. Vai. Non ci sono più qua, eh. Sono andati a... White, white. Uno va fatto. Nice. Fanno le munizioni R. Su una casa qua sotto, abitai un secondo. Vai, vai. Sono tutti qua. Arriva. Ok, one blue, white. Però gli ho fatti tipo tre white, quindi qua. Give me... Tipo dieci secondi. Vai. Una terra. Streamer, by the way. Ho fatto un team, ma c'è un'altro. Sto venendo. Ma è dentro o fuori? Ah, ok, sì, sono sopra, sono sopra, sono sopra. E nel caso rifto via. Sono a miele Stinkbar, ma non ti puoi giuparmi. Devo tirare un Merkid. Oh, un secondo. Fai. Stanno avvenendo un sacco di danni, eh. Sei tu? Sì. Oh. Un è buono. La buono. Buono a te. Arriva qualcun'altro, eh? Sì. Non mi cobrerà dietro. Li ho tolto tanto. Sono fuori? Vado fuori? L'altro è qua. È sotto? Ok. Sotto. Che è successo? Qua c'è uno. Uno mi ha tirato di Klinger, eh? Da dietro. Oh, cazzo. Uno ha fatto e l'altro è qua. Cazzo, c'è qualcuno che tira di Klinger, non so da dove. Vado sotto? Dov'è? Qua, è one in. Ok, non è mio al C4. Mi tiravano Klinger, non ho capito se era da lei o dal Tacos. Mica, se il C4 è qui, è scary as fuck? Eh, sì. Vabbè, rimarrei con un HP comunque. Hai le benda? No, no, no. Sì. Ecco. Sto muorando tutto io. Arrivano comunque. Sono qua. No, è qualcosa sotto. Fallo, 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 fallo. Arriva un altro. Entra dentro la casa? Non mi, non mi aiuto. Finisci la sofferenza. Oh, let's go, baby. Mamma mia, Adriana, come sei forte, oh. Oh, yeah, boy. GG, GG, GG. Riftiamo pure se vuoi, eh. Vai. Treccati. Ti hanno riftato, eh. Ecco, li vedo, li vedo, li vedo a due dieci. Sono... Che cazzo che mi fana? Ma stanno sprando a noi? Sì, sì. Ma non ho capito chi. Prendiamo quelli che rizzono, vanno, mi sa che vanno alla montagna di Tilted. No, vanno più giù. Io ho visto degli spori da qua, eh. Ok, io sono salvo di loro, eh. Ah, sì, anch'io. Lo vedi dove è? Sì, sì, esatto. Sì, sì, sì. Andrà sicuramente qui. Vai, prendiamolo. A cazzatura. Hai white? Fatto? No, sì, sì. C'è un check orlo, vuoi? No, no. Che cuore stai portando tu? Bende? 15 bende, sì. Ok, allora vende nei delanceri. Ho altri... Vieni qua. Veloce. Ricordo di lasciarmi qualcuna, by the way. Sì, sì. Ti giuro, sono andata a salvo a col tizio e non riuscivo a più a buildare, perché era troppo vicino. Fortuna che non fai. Qua davanti c'è a te. Ok, li vedo. Eh, ma ci sono i rift, li vorranno vedere sicuro. Non, 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 non. Shhhh. Ciao, nice. Mi è stato uno. Mazzio, mazzio io. L'altro one, l'altro one. Morto? Dov'è rato? Sgiù? È qua. Ok, nice, G. Per vedere lo shieldone. sono scendino fatto al 0.1 tra porto ok li vedo che stanno rifiutando 345 sono belli bassi già no quelli ok uno è un costo credo sia costo è proprio ci portano lontano lontano è ben safe vado in faccia sto qua quando botti di merda ma pure dato lo scelto pezzo di bell'uomo che gioco di merda tutti a giocarci perché gratis non vale per me questo discorso però ok vai è gratis però si fa i soldi ah poi però a me questo discorso come non funziona ho preso tanti di quei soldi per uova e per altri giochi ma cosa sta facendo ti sta guardando avendo quell'altro che ti sta guardando in fondo sono tutti a due qua eh ah allora ho un altro team mi è morto ho fatto però io what the fuck do you mean brother ho due team eh vabbè easy no 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 c'è un altro team ancora qui arrivo io sto per cadere un altro eh ma non è un problema sono mia mi sta lagando da morire il game cioè mi è scivolato il personaggio da sotto senza che io volessi ti rendi conto? mi hai già chiuso perchè c'è un altro team vai 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 non problemi intato intato è mia è mia è mia è mia è morte è morte è morte è morte vado 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 very much mi piace venire qua sono close o distanti no no eh dico per le scelte ah si se a voglia arrivo arrivo eccoli qua vai ho un po' di martiroso sei ridotto precedente sarei tu tanto no? si sto arrivando eh se mi aspetti ci sono quasi l'altro ve l'ho lasciato prendo quell'altro ma li lavo un po' di stile 30 e 8 nice eeeh vai passa gli sciudini eeeh tieni metto un altro pot fai 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 quante ne hai sposami di bomba? 15 15 possiamo farne 30? io ne ho 10 riprendi tutto fatto riprendi tutto fatto i wanna fall ah 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 ma eccoli quelli a est stanno fetando qui in mezzo alle case qui in mezzo alle case si ok quel bot no no ne ho cato uno prendo il bot dentro la sua casa io quello qua sotto è morto è morto ce l'ha metto uno eh lo so però meglio se lo lasciamo vivo eh esatto no 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 tanto non l'avrebbe restato mai non lo so oh lai ground anche io questo qua si è push morto no dai ma si ma ascoltami io ho fatto 85 si è buttato e non ho preso comunque la kill è una cosa che mi da una noia bestia proprio sta roba mi triggera mi triggera proprio l'anima evidente la mia anima triggerata in questo momento non riusciamo a fare le bombe mi sa che palle ma sempre così eh non riusciamo a fare 30 bombe per una anche se la massimo tutti you fucking care in me ma io non ci posso credere ma nella vita cioè per una kill non facciamo 30 bombe e niente uno qua davanti ma dove blu vai vai blu guardate lì sopra la serata per una kill non facciamo dai non ci posso credere no non è mai vero nella vita dai fra no no non è vero no le facciamo eh come 15 più 13 fa 28 cazzo è vero ce la facciamo zitto zitto la mia ascoltami la matematica io facevo cagare quando io andavo a scuola a matematica facevo cagare vieni facevo proprio schifo lo dovevo cagare ti immagini sono nemici no no oh eh io non ho detto c'era il rio no 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 tranquillo mi stava laggando no no where are you my friends what bello sto gioco bello sto gioco vai bellissimo sono una campiera di otto meto questi te li lascio a te visto che almeno famo 15 a 15 si bravo volta me li faccio is tranquillo k ma ci mori non carico più il video k questo è sicuro sono otto meto per forza sono otto meto posso fare un test posso fare un test aspetta 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 no adesso sono veramente lì sono lì sono aspetta aspetta sono easy erano due costini si ho visto quanto kg c'hai? 15 a 15 30 bombe così let's go baby ho due costini ah no no aspetta cost devo farti vedere una costa no no non c'è replay ok e niente ci stava il costino che mi stava attaccando tipo shotgun e c'era l'altro costino che era crociato che guardava il muro fermo a non fare niente era immobile della serie non voglio vedere la mia morte please don't